Benvenuti a farci e benvenuti sul canale, sono Pigaretto e sono qua per un nuovo video di... Among Us! Ok, il marrone è già lì, ci buttiamo subito nella mischia, partiamo con i rifiuti, lui sta facendo download, lui sta facendo... Lui, 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 io copro un attimino arancione mentre che fa la task, ok, che sta facendo questo? Non mi fido per un cazzo proprio di questo qui. Ok, lui ci sta controllando a noi due, non ci vuole lasciare soli, vabbè, io posso garantire in assoluto per arancione perché mi pare molto safe, lui mi pare molto molto safe. Fammi controllare, no, non devo andare qui, devo andare qua in basso. Olè, fatti i rifiuti. Eh, luci, luci, luci. Luce a San Siro. Fatto. Fortissimo. Fix it. Where? Ok. Me! And Orange super safe. And Orange super safe. Tistinho. Isolange, due. Weapon. And Orange super safe Passo. Figure. Black is quite safe, because he was with us. Allora, l'ha denunciato bianco. I saw you. Marrone. Brown. Brown, I think, yep, skip. Tranquillo, zio, ma perché tu eri lì a fare quei rifiuti, ma quei rifiuti lì non ti danno prova, a parte che con le visual task è facile, però nel senso, non creano prova. Ok, era marrone, era black. Mi sa che black ha capito che non tirava aria di vittoria a un lato, perché siamo troppo coordinati. Allora, fatto qua, andiamo in corridoio, via. controlliamo, ok, questo è fatto, qui, 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 giù. Divert power, weapon, ok. E facciamo uno, due, tre e quattro, perfetto. Oh, occhio, 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 state lontani, state tutti lontani, tutti lontani, ragazzi, tutti lontani, che qua non si sa mai, ok. Ok, state tutti lontani, quando è così, perché se parte la kill, bisogna stare molto attenti. Ok, c'è per l'energia, ripara i cavi, manca un cavo, un go. Ok, vai… Ok. ok 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 beh siamo comunque tanti e anche se non è lui comunque è difficile che un killer ce la faccia quindi uno ce lo possiamo anche permettere di sbagliarlo hop eh già ladies and gentlemen we got em via judy judy mitraillatrice di di voti ok eccoci ragazzi per sbaglio ho interrotto la registrazione avrò fatto un taglia in colla insomma io devo andare in armeria siamo 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 allora ho fatto il download devo andare in amministrazione oddio quanta gente è 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 Eh, ladies and gentlemen, we got him We got me Assolutamente sì Comunque io ti tolgo la luce Intanto iniziamo a fare un po' di macello Bisogna fare un po' di macello, sì Cazzo Cazzo I'm a genius, man My god This man is a genius Well, love Goodbye, malinconia GG Ok Now faccio un casino I'm going to be in on Next time for me I'm going to be in on I'll be in on I'll be in on Eeeh, che vai male con io? e via l'rucci non è finito e via l'rucci 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 e via l'rucci